c'è una pasta che non è la solita e che piace proprio per questo perché è buona e in più ha il cruschello che contiene fibra grezza è la pasta misura buona e scura e una pasta così scura è chiaro che vi aiuta a tenervi in forma misura la buona pasta scura